Io ringrazio tutti voi, a cominciare da Stefano per essere rimasti qui per tutto il tempo per aver seguito chi l'ha fatto da lontano questa giornata. Devo salutare in modo non rituale due situazioni, una è quella delle lavoratrici e dei lavoratori dell'arena di Verona che sono nei guai e non sono nei guai per caso, io spero che nella legge di stabilità ci siano i fondi per pagargli lo stipendio, anche questo una volta era politica, adesso è utopia e per consentire loro di lavorare come possono e devono fare. Poi c'è un pensiero invece più personale da Luca Pastorino che è vittima della sindrome di Interstellar, è chiuso in commissione bilancio da una settimana ed è invecchiato molto più di noi in queste ore, lo troverete in Canutito, è sempre affascinante e lo ringraziamo perché non è qui solo per questa ragione. Io cercherò di essere breve perché appunto Gnocchi e Lambrusque poi chiudono entrambi e dire tre o quattro cose. La prima, io non sono per la mitologia del vecchio, non ne posso più di queste cose nostalgiche, l'abbiamo detto mille volte, però davvero sono colpito dalle parole di Stefano Bartezaghi perché non c'è più la ragione profonda per cui si dicono e si fanno le cose. In questi minuti Renzi sta parlando, appena finito di parlare a Firenze, lo ricostruirete dopo, ma è molto fragile, insulta tutti, dileggia, parla solo di sé e della famiglia reale che compone questo governo perché di questo si tratta, c'è una psicologia da lesa maestà, non si possono più fare domande, è abbastanza sorprendente che Saviano abbia scritto un pezzo tutto sommato normale, si occupa di cose più serie, Saviano, anche nelle modalità critiche, e che ci sia stata una reazione così strampalata, perché bisogna spiegarle le cose, bisogna spiegare bene quali sono i conflitti di interesse, bisogna spiegarlo con lo stesso tono tronfio che si usa per fare propaganda e per presentare le slide, perché non c'è una slide sulla banca Etruria o magari un intero powerpoint? È importante dirle queste cose, altrimenti ci prendiamo in giro. L'ho visto fragile perché ormai siamo alla promessa delle promesse, non si rendono conto di aver fatto già le promesse l'anno scorso e diventano vecchie e se li dite vecchie a Renzi fa puff e scompare, potrebbe essere un'idea. Allora io penso che quello che abbiamo visto oggi qui non è spendibile in uno slogan, in qualcosa che esce domani sui giornali, in una di quei pastoni sulla sinistra che c'è SEL, Rifondazione Comunista Italiana, Verdi, Green Italia, possibile, non è così che dobbiamo fare. Dobbiamo prendere una rincorsa, scivolare, come diceva Peppe Allegri in uno dei passaggi più lucidi del suo lucidissimo intervento, verso la cultura, verso quello che una volta nei manuali si definiva pre-politica, nel ricreare un sentimento, nel ricreare una coscienza. Vito Gulli parla di consapevolezza, che è la parola più bella di tutte. Se non ci rendiamo conto della differenza tra le cose concesse i diritti, non so se state seguendo l'appassionante dibattito sulle unioni civili, ad un certo punto un sottosegretario di cui non faccio il nome, Scalfarotto, ha detto no ma Alfano stia tranquillo perché stiamo facendo una cosa abbastanza conservatrice, non si deve... ma... non so se era un'intervista, era un virgolettato, non si preoccupi, se non riusciamo a riconoscere non solo il nuovo e il vecchio in quella dialettica che ha ricostruito Stefano, ma il fatto che le cose che abbiamo sentito oggi, che sentiamo sui TG di questi tempi, sono degli anni 80 e degli anni 90 quando quelli come noi, alcuni non erano, Ellis Line non era ancora nata, ma quelli che erano nati erano dall'altra parte, non credevano che a togliere i diritti dei lavoratori fosse un'idea geniale. Ci sono ormai i convegni in cui ti dicono, non parlano più di contratti a tutte le crescenti, dicono non è più così indeterminato come una volta, era ora, non è più indeterminato, non è una cosa banale. Allora se queste cose, noi queste contraddizioni non riusciamo a spiegarle, anche con le persone che ne sanno più di noi, stiamo a casa, è molto semplice, perché quella è la politica da fare di questi tempi. Avete sentito personalità che hanno fatto parte dei governi dell'Ulivo, professori affermati, quasi a fine carriera tante cose hanno fatto, avete sentito giovani professionisti, io vi chiedo di ricostruire la politica partendo da questi. Possibile funziona se riorganizza un campo molto più grande di se stesso, lo voglio dire, da sempre lo diciamo, poi tutti pensano che sia retorico, ma io non penso che nemmeno il Partito della Nazione sia in grado di fare politica oggi, di parlare con la società, di avere un rapporto di, come dire, di prospettiva con questi ambienti, con questi, con i nostri concittadini, nessuno ha la chiave. Leggo di Serracchiani che dice noi, pensate, è civati quelli come me, i colpevoli del populismo, ma io non condivido le ricette di questo governo proprio perché fanno diventare populisti tantissime persone, perché quando uno è escluso da un patto sociale, e lo è, perché gli 80 euro incominciano ad un certo punto sotto, cosa diventano? Populisti le persone che non hanno lo stipendio, che non hanno la casa, che non hanno nessuno che li rappresenta. Oppure per farsi ascoltare devono fare il rovescio, cioè urlare, non ragionare più, dire che sono tutti uguali. Secondo me in mezzo c'è quella stessa cosa, cioè la politica, la cultura, la costruzione di un progetto collettivo, il tentativo di raccontare le cose in modo comprensibile, anche smart, ma che sia fondato, che abbia un ragionamento e un senso. E anche un'informazione, se ci pensate, la metafora delle banche è molto simile alla metafora della politica. Vi vendono titoli che non sono quelli veri, come li rappresentano. Pensate ai programmi elettorali, prima Pertici dicevano, li scrive più nessuno, è vero. Non vi fanno vedere quello che chiedeva Pado a Schioppa quando emettevano i titoli ad alto rischio, no? La curva, la probabilità di quanto si poteva anche perdere. No, no, li cambiano strada facendo. Quindi voi votate una cosa e ne trovate un'altra. Il rischio è una metafora anche questa, perché quando si parla con leggerezza di clausole di salvaguardia per i prossimi anni, sono tasse che spostiamo, sono dei derivati della politica e della finanza pubblica. Non è questione di essere rinzi o berlusconi o chissà chi altri, è questione di ragionare sulle cose, non parlare per scelta di evasione fiscale. Visco ha fatto un passaggio indimenticabile, perché il motivo per cui Visco è stato poco sostenuto dai partiti di cui ha fatto parte. È perché era più semplice prendere le distanze da Visco che sostenerlo e aiutarlo, orientarlo se qualcosa non andava bene. Era più semplice buttarla in cacciara e dire abbiamo esagerato, certo, abbiamo esagerato a risanare i conti pubblici. Allora la finanza tornava, c'era un ragionamento che non si chiudeva in un default o nel rischio di finire spiaggiati. Peccato che le cose popolari siano più semplici e siano anche più gradevoli forse a raccontare. Per cui lo schema è fragilissimo. Il primo a essere fragile è questo governo, è questa situazione europea. Anche in questo caso però noi non pensiamo che siccome è fragile si abbandona la barca e si esce dall'euro, si fa i varufakis all'italiana, si cerca la soluzione anche in questo caso amiccante. Dobbiamo provare a cambiare le strutture profonde e non a fare le variazioni di cui parlava Stefano. Per farlo però, e qui c'è la cattiva notizia, non bastano i 15 relatori, i personaggetti della politica, mi è rimasta questa cosa, Elie Schlein, Pippo e chissà chi. Abbiamo bisogno che siate voi a mobilitarvi. Noi quello che avete sentito questa sera lo trascriveremo, lo renderemo accessibile. Sul sito trovate una spiegazione complessiva di quello che stiamo facendo, che abbiamo pubblicato proprio in queste ore a vostra insaputa, cioè che abbiamo tenuti qua, ma in realtà tutta Italia sta parlando di possibile tantissimo attraverso la rete. Abbiamo bisogno ovviamente di rendere più fruibili questi contenuti, ma noi dobbiamo provare a lavorarci tutti insieme. Quando facciamo l'appello, non lo facciamo solo a noi, ai mille, cinquemila, speriamo che siano sempre di più tesserati di possibile, lo facciamo a tutti quelli che si lamentano in modo sordo, a chi sta nell'università e si sente dimenticato. Perché lo è? Dispiace doverlo dire. Però nello stesso tempo forse non impensa più, non confida più nella possibilità della politica, perché non trova interlocutori. Allora il nostro modello è molto più umile, meno trionfalistico. Siamo ospitali. Se qualcuno ritiene di avere qualcosa di buono da raccontare, da descrivere, da progettare insieme a noi, noi siamo molto accoglienti. Chiedo a tutti i comitati di esserlo. Cercheremo di ricostruire anche rispetto a cose che hanno funzionato più o meno bene il lavoro più nazionale, con un concorso più aperto e più efficace di forze diverse. Però vi chiedo veramente di tornare a casa da qui con l'idea che dobbiate fare la stessa cosa. Non inventarvi una fonderia, avere le luci. No, però usare questa metafora per dire tocca a noi, altrimenti non lo fa nessuno. Questa è la pessima notizia. Non c'è nessuno che riorganizza la politica così in questi anni. L'ultimo esempio, lo citiamo sempre, non è una citazione anche questa immediata, è quello dell'ulivo. È l'ultimo esempio. Sono passati vent'anni, non è nato nulla, non è rimasto nulla. Se non le edizioni, appunto, le citazioni, quasi fosse l'annata dell'Amarone. Facciamo la riforma del lavoro e Poletti è un po' come Berlusconi 2002, no? 2003. Uno dice no, era il 2003 che era un anno buono. È così, le ricette sono quelle. Il rapporto con la finanza, con le strutture vere del potere, è lo stesso rispetto al quadro rivoluzionario. Così, lo dico quasi con dolcezza, lo dico anche ai ministri in carica, così non cambia niente davvero. Loro dicono ce ne faremo una ragione, fatevela subito, perché così non cambia niente per le persone che stanno peggio, per i cicli economici, per l'estensione dei diritti, per l'orgoglio del nostro, non quello nazionalistico, per stare in giro per il mondo con serenità, no? E anche con spirito, come dire, appunto, scusate se ci torno, serenità, una parola che non si può più utilizzare, ma forse dovremmo recuperare. Quindi, io non ho molto da aggiungere, se non che è possibile questo schema che avete visto oggi lo userà sempre. Lo userà non solo formalmente, ma nel raccogliere esperienze, professionalità, per dare dei messaggi politici che siano chiari, che siano rigorosi. Avremo un lavoro anche sul fact-checking, abbiamo deciso di chiamarlo gatto parda per non essere antipatici, per fare una critica un po' così, però vorremmo anche dire che queste cose non sono così proprio come ve le raccontano. Oggi abbiamo invitato Marta Fana, che sta a Parigi e che fa un lavoro quotidiano su Twitter, in questo senso, e descrive e decostruisce i dati che vi vengono forniti. Diciamo almeno la verità e poi discutiamone. E in secondo luogo, oltre a fare questo, io vi chiedo anche di ripensare all'essere di sinistra. Io ieri ho seguito il dibattito delle minoranze del PD, li voglio pure bene, sono amici. Però se il problema è che Renzi non deve fare anche il segretario, capite? Non è che hanno esagerato con le ambizioni, cioè se non fa più il segretario va tutto a posto e ricomincia. Ho il dibattito affascinante sulle bandiere, perché non c'ha le bandiere. Ma il problema è che le bandiere sono, come diceva Engels che non ha più rinnovato la tessera, sono nella testa delle persone, non quelle che sventoli. E allora se non c'è una consapevolezza politica, di vita collettiva, anche di rappresentanza, perché io ce l'ho con questa situazione, perché tanti di noi hanno votato il PD, il centro-sinistra, in tutte le sue forme, perché dicevano delle cose, non per smentire quelle cose. Guardate che è la cosa più importante di tutti per me, se mi impegno con voi su una questione. Poi non ci riuscirò, ma devo spiegare perché non ci sono riuscito, non farmi bello perché ho fatto esattamente e puntualmente il contrario. Quindi riscoprire l'essere progressisti, l'essere anche controcorrente. La sinistra l'ha inventata per cambiare le cose, per cambiare gli equilibri, per stressare, per rompere anche un po' i coglioni. È vero, altrimenti c'è già la destra, che è un posto molto più accogliente, che seguiremo con ansia le elezioni spagnole, che non so se finiranno benissimo, mi auguro di sì, però c'è un sentimento di destra che torna. E anche rispetto, e finisco su questo, questo interessantissimo dilemma, c'è Nardella, che è il nuovo filosofo politico, sempre di Firenze, io inizierei a preoccuparmi dal punto di vista geografico, no perché ce ne sono dei talenti notevoli, solo lì tra l'altro, sono tutti di Firenze, che dice no ma a destra e sinistra non ci sono più. Allora, prima considerazione, è Casini, immaginate Casini è questa rappresentazione, cioè il centro, questo eterno moloch intorno al quale dovremmo radunarci tutti in modo religioso, perché è prevista anche la religiosità, e adorare non si sa più quale divinità, perché non si capisce più quale sia. Seconda risposta, ma a voi sembra che Donald Trump non sia né di destra né di sinistra? Per me Donald Trump è di destra, secondo me lui lo dice anche. La Le Pen, con la versione mini-me, Marion Le Pen, che è terribile, è più cattiva, è fantastico perché è più cattiva della zia, è di destra? Secondo me è di destra, mi spiace per Nardella, chi va in giro a dire chi non mette il presepe nelle scuole, non fa le ferie, se ci pensate, questa non è fiorentina, bisogna dire la verità, è padana, diciamo così, delle nostre parti, è di destra, un po', c'è anche il termine tecnico che è pirla, però al di là di questo, è di destra, perché non riconosce, è di ferie, potrei andare avanti così, un ministro del lavoro che spiega che non è più importante l'orario, guardate che è una cosa terrifica, fa caponare la pelle, ma il risultato, cioè praticamente il cottimo, che non so dove colloca Bartezaghi nella storia della civiltà, ma mi pare molto in basso, è di destra, non vuole essere, per carità non voglio pensare che ci sia premeditazione, gli è capitato pensare di avere una classe politica che fa una legge elettorale e la votano tutti, anche le minoranze, tra l'altro sono curioso di sapere come votano il referendum costituzionale, quelli che vogliono togliere il segretario dal premier, perché lì c'è un po' più, spero che votino, no, in Parlamento non se la sono sentita, ma quando escono di lì sono battaglieri, dicevo, una classe politica che fa una legge elettorale in cui voi non decidete nulla, è di destra, se concepiamo la destra come luogo nel quale in pochi si decidono le sorti dei molti, cosa possiamo fare noi, e vi saluto e vi ringrazio, è organizzare i molti, i dispersi, quelli che non ci credono più, è di fare un lavoro di ricognizione e di collegamento tra di loro, è di farlo non per conto nostro, ma per conto loro, al loro servizio, così abbiamo pensato l'organizzazione del nostro movimento, ma così dobbiamo pensare anche la costruzione dei progetti, è ora di finirla con i leader, i ministri, i capi bastone che vi spiegano come dovete vivere, vivere sempre, se i Bezzi lo sa, ci spiegano sempre come dobbiamo essere, ma anche come dobbiamo risolvere i problemi noi che lavoriamo in un settore, che facciamo qualcosa di particolare, noi che abbiamo una storia e una cultura, dobbiamo trovare il modo di far emergere quel possibile, l'abbiamo chiamata così, vi ricordate, perché il possibile, diceva un filosofo non di Firenze, diciamo, minore, diceva che c'è già, che è una condizione presente il possibile, bisogna solo farlo emergere e ovviamente per chi si candida a fare politica a rappresentarlo e a costruire un racconto che sia però rigoroso, ecco non ci sono stati slogan oggi, ci sono stati ragionamenti, non ci sono stati tweet, ci sono stati approfondimenti, non è perché siamo vecchi, tipo il mio stile è vecchio come la casa di Tiziano a pieve dedicatore, quel verso incomprensibile dibattiato, non è che vogliamo avvitarci, facciamo politica come si è sempre fatta, quando si è fatta bene, come si farà, spero, presto anche nei sondaggi, nei talk show, questa è la possibilità che abbiamo e lo faremo a cominciare dalle amministrative, a Roma non sarà possibile presentare un proprio candidato sindaco per sgombinare le bande che devastano la città, è possibile fare una domanda a cento, a mille romani di mettersi in un'assemblea e incominciare a lavorare, che siano di centro-sinistra, che siano persone che hanno a cuore il destino della propria città, così stiamo facendo a Bologna, ha promosso iniziative insieme ai comitati bolognesi, bellissime in queste settimane, non vanno in televisione, chi se ne frega, se non si accorgono è meglio, è un trucco vecchio, questo vecchissimo, però lo stiamo facendo, martedì sarò a Milano a cercare di riprendere un filo stranissimo, perché non ci piace niente del governo, non ci piace niente del PD, non ci piace niente delle persone che promuove, nemmeno il candidato sindaco, gli piace, però si alleano col PD. Guardate che faccio fatica a capirlo. Allora questo è il percorso che ci porta all'Ambrusco, quantomeno quello è quasi certo e per tutto il resto ovviamente tocca a voi, facciamo il primo pezzo ma voi dovete fare tutti gli altri ovviamente insieme a noi, a chi ha provato a organizzare questa iniziativa, ringrazio il teatro Fonderia Aperta, ringrazio il backstage, tutti quelli che sono collegati da Stefano a Paolo agli altri e ringrazio voi per aver avuto tanta passione e tanta pazienza. Grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.